Benvenuti all'appuntamento con gli speciali di Lombardia Notizie Online. Oggi vi proponiamo un tema particolarmente caro alla città di Milano, il nuovo policlinico. L'ospedale sarà pronto nel 2024. Oggi la vicepresidente Letizia Moratti e l'assessore Stefano Bolognini sono andati a conoscere da vicino il progetto e lo stato dei lavori. Cagranda, ospedale di Milano al quale i milanesi hanno voluto contribuire sempre di cuore e alla quale anche Regione Lombardia ha contribuito con 30 milioni. L'ospedale Cagranda, il policlinico, è un'istituzione per la città di Milano, un'istituzione che si rinnova con questo nuovo ospedale. È un ospedale nel centro della città di Milano, un ospedale che non consuma suolo pubblico, un ospedale che si finanzia anche col patrimonio della fondazione che è dato dalle donazioni che nei secoli sono state date dai cittadini milanesi, naturalmente anche con l'importante contributo della Regione Lombardia e sarà un ospedale che sarà aperto alla città anche con un polmone verde e con un'area commerciale, quindi un ospedale che si rinnova ma che si rinnova aprendosi alla città. È una natura moderna che abbia attenzione alla cura ma anche poi alla dignità e anche il modo di vivere un ricovero da parte delle persone, quindi una struttura efficiente, moderna, anche molto bella con delle aree verdi, attenzione anche ai bisogni della persona. Quindi un'opera assolutamente straordinaria che porta a Milano ancora di più a essere eccedenza non soltanto in Italia ma in Europa e forse nel mondo dal punto di vista sanitario. Una struttura efficiente, moderna, bella, funzionale. Grazie per averci ascoltato, continuate a seguirci sul sito lombardianotizie.online e sui nostri canali social. Grazie a tutti.